Che ha il tutor e qual è il suo ruolo? Allora, il tutor scolastico è un docente che accompagna un studente, una studentessa, nel suo percorso di formazione a 360 gradi. Quindi non solo per quello che riguarda lo studio delle materie scolastiche, ma per tutte quelle esperienze formative che lo studente può anche svolgere fuori dalla scuola, come lo sport, il volontariato, il stasio, percorsi e attività varie sul territorio. Tutte queste esperienze vengono inserite in un importante documento che il tutor ridice insieme allo studente e alla famiglia, che è un progetto formativo individuale. Ma il ruolo del tutor non è solo questo, diventa proprio una figura di riferimento per lo studente, a cui lo studente si può rivolgere per qualsiasi difficoltà, ad esempio nel rapporto con i compagni, con alcuni professori, difficoltà personali che hanno una ricaduta sul percorso scolastico, ma anche in generale in senso positivo, perché il suo percorso sia un percorso di successo e vissuto con benessere, quindi anche per approfondire degli argomenti, per scegliere l'esperienza di volontariato, per aggiungere appunto una parte al suo percorso formativo.